Un'email per annunciare la fine di Vincent, così con poche righe fredde e scarne, spedite da una casella elettronica ai familiari, il medico dell'ospedale dove è ricoverato comunica che oggi stesso comincia su di lui l'interruzione dei trattamenti, cioè idratazione e nutrizione, per il 42enne tetraplegico a causa di un incidente da 10 anni in stato vegetativo, subentrerà inesorabile la morte. Lunga la battaglia legale per evitare di arrivare allo stop di cibo e acqua. Già nel 2013 il tentativo di una prima sospensione fallita dopo un ricorso in tribunale con Vincent che nel frattempo resiste senza trattamenti per oltre un mese. Di nuovo quest'anno, un secondo tentativo di interruzione, di nuovo una sentenza, quella della Corte d'Appello del maggio scorso, ferma la mano dei medici pronti a staccare la spina. Venerdì scorso l'ultima sentenza della Cassazione francese ribalta quella precedente il cui ordine era di proseguire con acqua e cibo. Solo ieri il disperato appello della madre all'ONU ha bisogno di essere nutrito con un tubo, ma quel tubo è la sua vita, detto aggiungendo io lo guardo, lui mi guarda da quel tubo, il sondino nasogastrico, passano acqua e nutrienti, ora viene rimosso. Oltre all'arresto dei trattamenti, il protocollo accettato dalla moglie e da alcuni fratelli e sorelle prevede una sedazione profonda e continua, ma papà Piero, mamma Viviane e altri due fratelli sono contrari e difendono la vita di Vincent fino all'ultimo istante. La vicenda di Vincent Lambert è una vicenda molto grave, perché noi ci troviamo davanti una decisione della Cassazione francese che vanifica un'altra decisione della Corte d'Appello che invece aveva stabilito che il richiamo delle Nazioni Unite rispetto al mantenere ancora all'alimentazione e all'idratazione a Vincent era legittima. Ora la Cassazione invece dice che quell'appello era un appello illegittimo, non entra nel merito, ma ne fa una questione procedimentale. Ecco, questo è davvero molto grave, perché nella sostanza la Francia è invece aderito alle Nazioni Unite e quindi aderito alla Convenzione sui diritti dei disabili. In forza di quella Convenzione, se oggi la Francia disattende questa decisione delle Nazioni Unite, beh diciamo fa dei passi indietro rispetto alla culla di civiltà che è sempre stata la Francia anche agli occhi dell'Europa. Quindi prudenza vorrebbe che si proseguisse ancora l'alimentazione e l'idratazione nell'attesa di una decisione finale nel merito, nella sostanza e non nella forma.